non so se luca zanimacchia sia un fan di guerre stellari ma nel caso sabato deve essersi sentito un po luke skywalker quando ha deciso il duello con il como con quella sciabolata degna della spada laser del giovane aspirante jedi correva il minuto 88 la cremo si era fatta riprendere da un avversario in dieci quasi dall'inizio stava finalmente mettendo alle strette la tignosa concorrenza ma pickel non aveva trovato la porta anto aveva trovato il portiere e si ingrossava a vista d'occhio il rischio che finisse pari come speravano a venezia franco vasquez ha aperto a destra per zanimacchia fosse stato un tocco perfetto magari luca ci avrebbe pasticciato come era successo con certi altri ma stavolta gli mancava un giro un unico piccolo giro che però ha messo fretta a luca anche perché arrivava uno sgherro nemico così stavolta luca non si è potuto permettere il lusso di pensarci ha sparato e ha fatto centro fosse stato a luna park avrebbe vinto un pelus di ciubecca a grandezza naturale così invece il premio è stato far volare lo zini alla settima galassia per un momento così era valsa la pena assorbirsi una partita contorta come la mente dei personaggi di un film di ingmar bergman fin lì di stellare c'era stata solo la quota di classifica e le stelle le aveva viste solo franco vasquez quando strefezza aveva sbagliato film trasformandosi in karate kid il piccolo karateka è stato spedito a cercarsi il film giusto dopo meno di un quarto d'ora la partita normale era già finita e ne incominciava un'altra tutta da inventare fabregas aveva già dovuto lasciare a casa cutrone con la febbre e se mi sente dire che il rosso a strefezza ha incasinato la cremo rischio che mi cava gli occhi e ci gioca a biglie però la cremo aveva incominciato di buzzo buono con le idee del casta e le scosse di falletti e invece con il como in dieci accartocciato nella trequarti con gli spazi di manovra azzerati e senza johnson che a tradimento si è messo in ferie per tutto il mese di praticabile restavano solo le fasce dove per sua fortuna è messa bene e infatti sorprende che abbia fatto tanta fatica a produrre qualche goccia di gioco ser nicola non sfruttava fino in fondo la libertà che gli aveva regalato l'espulsione dell'avversario diretto zani si avvitava in soluzioni improbabili stroppa ha provato a scambiarli di fascia e un cross di luca da mancina ha spaventato così tanto o dental da fargli dare una sberla al pallone il rigore infilato da coda è stato l'unico tiro in porta del primo tempo per vederne un altro si è dovuto aspettare la metà del secondo e ne avremmo fatto a meno perché è stata la punizione del pareggio del como con jungdal che si è fatto infilare dal tiro prevedibile di da cugna il pericolo ha finalmente scosso la cremo ma a tirarla fuori dai guai ci ha dovuto pensare luke zanimacchia quando si è ricordato di avere ancora da qualche parte la spada laser dai cremo non darci degli incontentabili se facciamo le pulci a una vittoria di importanza galattica in fondo stai combattendo una guerra stellare cosa c'è di strano se ti chiediamo la luna